PAYMAR Collocata all'interno del tessuto industriale più importante d'Italia, PAYMAR è una multinazionale specializzata nella progettazione, ricerca e produzione di moduli fotovoltaici ad alta efficienza. I pannelli PAYMAR sono orgogliosamente made in Italy. Dalla selezione dei materiali al montaggio, fino al confezionamento. Ogni singola fase del processo produttivo avviene nello stabilimento di Brescia, dove un team di tecnici e ingegneri specializzati assicura lo sviluppo continuo dei prodotti, caratterizzando l'azienda come boutique del fotovoltaico nel panorama internazionale. Il team PAYMAR è composto da un gruppo cosmopolita e dinamico, che vanta i migliori professionisti del settore. Esperienza, professionalità ed entusiasmo, unito a un eccellente supporto tecnico e commerciale. Questi i punti di forza messi a disposizione del cliente. La missione è quella di offrire il miglior servizio possibile, stabilendo un rapporto solido e continuativo con distributori, installatori e clienti finali. L'elevata automazione delle linee di produzione, la cura dei particolari e l'attenzione alla ricerca e sviluppo, sono i punti di forza di PAYMAR, la cui sede di Brescia può vantare una capacità produttiva di 350 MW all'anno. I pannelli solari PAYMAR vengono sottoposti a rigidi test e controlli, per raggiungere i più alti livelli di qualità, performance e resistenza, assicurando elevate prestazioni anche in condizioni climatiche di scarsa luminosità, oltre ad un'elevata resistenza a qualsiasi agente atmosferico, con l'obiettivo di garantire ai clienti la massima soddisfazione per il loro investimento a lungo termine. L'impegno continuo di PAYMAR per incrementare costantemente la qualità dei prodotti e offrire al contempo ai propri clienti un servizio personalizzato mira a coniugare efficienza e risparmio per portare energia rinnovabile a sempre più persone nel cammino verso un futuro green e sostenibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti.